Io ho la sensazione che entrambi in guerra con grande entusiasmo non pensando affatto a quello che sarebbe successo nella guerra e i 600.000 morti della guerra non insegnarono molto se vent'anni dopo abbiamo fatto la seconda e ho anche l'impressione che questa guerra e anche la seconda furono motivate profondamente da ragioni economiche, da nazionalismi che ancora erano molto forti e trovavano nella guerra la loro soluzione, ma ho l'impressione che l'Europa oggi ancora non abbia fatto i conti fino in fondo con quelle motivazioni lassi e ancora oggi su vicende che ci toccano la pelle ruvidamente, a cominciare dai migranti, troviamo divisioni che minacciano di essere radicali e derive populistiche che non sappiamo dove potrebbero portarci. Detto questo la prima guerra mondiale, a differenza della seconda, nel cinema ha promosso dei lavori che non hanno tanto raccontato le vicende in quanto tali della guerra, ma quella guerra è diventata una specie di occasione per riflettere sulla guerra in quanto tale. Questo dall'inizio, dagli anni venti, fino a questo film di Monicelli, ma faccio a parte alcuni film che sono tratti da opere fondamentali come Niente di nuovo nel fronte occidentale di Remarque o Addio alle Armi di Hemingway, che sono due testi capostipiti, insomma non solo della riflessione sulla guerra, ma del romanzo in generale del Novecento. Ma ci sono dei film, dico per dire la grande illusione di Renoir, fino a Torneranno i prati di Olmi, che è un bellissimo piccolo film di Ermanno Olmi, a tutto onore di un regista che nonostante l'età e i problemi continua a produrre delle opere di un valore poetico, ma nel senso in cui la poesia coglie la profondità delle contraddizioni dell'esistenza e in questo caso della guerra. Dove sta questo film? Poi cito, proprio vado direttamente sul film di Monicelli, un altro film che va ricordato, Orizzonti di Gloria, di Stanley Kubrick, è il film che ha fatto conoscere Stanley Kubrick, tutti ricorderete forse Kirk Douglas, che si trova a dover comandare degli assalti che falcidiano le truppe, mentre un generale indifferente continua a dirgli di andare all'attacco. Il tutto finisce con una decimazione e con una fucilazione dei soldati presi a caso fra le truppe per dimostrare che bisognava in ogni caso, anche crepando, andare all'attacco. È un bellissimo film di Stanley Kubrick. Ma altrettanto bello è questo di Monicelli, Monicelli, sia pure molto diverso. Siamo nel 1959, questo film è stato presentato alla Mostra del Cinema di Venezia. Quell'anno vinse ex equi Leone d'oro insieme al generale della Rovere di Roberto Rossellini. Ci furono anche molte polemiche perché Luigi Chiarini, che era il direttore della Mostra, non era molto sensibile alla commedia all'italiana e ai registi di quella commedia all'Ai, avrebbe voluto forse dare il premio soltanto a Rossellini, ma alla fine il favore con cui venne accolto il film fece sì che il premio venne ripartito tra Monicelli e Rossellini, che insomma stiamo parlando di due registi in modi diversi, fondamentali nella storia del cinema italiano. Questo film è un film un po' particolare, è stato anche accennato prima dai nostri interlocutori. I due protagonisti, Vittorio Gasman e Alberto Sordi, sono due maschere, sarebbero diventate due maschere della commedia all'italiana, perché siamo nel 1959. Sordi era ancora un po' macchiettistico nelle sue interpretazioni. Gasman avrebbe trovato nei soliti ignoti il passaggio dalle sue interpretazioni drammatiche, da vilenne, da cattivo, verso invece una dimensione più di commedia, come tutti ricordiamo, il sorpasso, il mattatore, il gauscio, eccetera, eccetera, eccetera. Questo film sta dentro alla commedia all'italiana, però è un film un po' particolare nella commedia all'italiana, perché la commedia all'italiana mette sempre in scena dei personaggi che vengono caricaturizzati nel senso dei difetti del popolo italiano, c'è un po' sempre anche di autocompiacimento in tutto questo. Ci descriviamo come negativi, ma sotto sotto siamo d'accordo poi con questi vizi con cui veniamo rappresentati e questo è stato, come dire, la forza e il limite della commedia all'italiana. Qui questi due personaggi hanno uno scatto d'orgoglio finale, recuperano la loro dignità di fronte al plotone d'esecuzione. E quindi in quel film la commedia all'italiana, come dire, ha uno spostamento rispetto ai suoi stilemi tradizionali e Monicelli riesce nel grande equilibrio, nel trovare un grande equilibrio tra la dimensione, diciamo così, più comico, brillante che gli apparteneva e la dimensione invece tragica, drammatica degli eventi che racconta la prima guerra mondiale. è restaurata sul spagnolo, sì. Grazie. 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 Grazie.